Come in tutte le stagioni estive, sui litorali torna il fastidiosissimo fenomeno dell'alga tossica. L'ARPA ha comunicato i dati del monitoraggio che viene effettuato ogni 15 giorni. L'emergenza riguarda le province di Bari, Brindisi e Lecce. Per quanto riguarda il capologo pugliese, due le zone maggiormente interessate, il litorale di Giovinazzo e quello di Santo Spirito, dove la concentrazione è particolarmente elevata. Valori più bassi si registrano sul lungomare di San Giorgio, nella provincia di Brindisi, la zona più colpita con il bollino rosso che segnala alte concentrazioni è quella di Torre Canne, mentre nel Salento i rilievi hanno evidenziato la presenza a Porto Badisco e Augento, nella zona di Punta Macolone. L'alga tossica trova il suo humus ideale sui fondali rocciosi, in acque calde e ben illuminate. Le tossine hanno effetti sia sugli uomini che sugli organismi marini, molluschi compresi. I sintomi sono molto simili a quelli di una sindrome influenzale o da raffreddamento. Spesso si manifesta con spossatezza, riniti, faringiti, bronchiti e leggeri stati febbrili, ma non per questo meno fastidiosi. L'ARPA ha diffuso ai comuni interessati alcune indicazioni per mettere in allerta i bagnanti, invitati a seguire regole fondamentali. Evitare il lungo stazionamento sugli scogli durante le mareggiate, poiché le tossine dell'alga tossica si liberano con l'infrangersi delle onde sugli scogli, ed evitare di mangiare ricci. In base ai dati delle ultime due settimane di luglio, i siti più a rischio sono Giovinazzo e la Forcatella nel Brindisino, e infine Torre Canne.